Il rischio è che i tempi non vengano rispettati, dice Raffaele Cantone. Nella borsa del Presidente dell'autorità anticorruzione ci sono i documenti dei bandi di gara appena ricevuti dal Consiglio d'Amministrazione di Expo. È a Milano, a un convegno dell'Università Cattolica sulla gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Cantone deve valutare in particolare i bandi per la realizzazione del principale simbolo dell'esposizione universale, l'albero della vita. Una torre di acciaio e legno alta 35 metri da costruire nel centro di un lago con una chioma artificiale di 45 metri di diametro che dovrebbe proiettare luci e emettere suoni. Costo dell'opera 8 milioni di euro. Per la verità fino a questo momento noi non avevamo mai visto atti. Oggi l'Expo ci ha mandato il bando di gara e quindi verificheremo. Ci sono state delle difficoltà e complicazioni collegate soprattutto a una serie di ruoli poco chiari in questa vicenda dell'albero della vita. Non si capiva bene come era nata l'ideazione, come era stato creato il meccanismo di sponsorizzazione, chi fosse il proprietario del progetto. Mi auguro che queste questioni che sono state poste in una pluralità lunghissima di riunioni siano state risolte e che il bando sia stato fatto secondo regole che consentano trasparenza e concorrenza. Ciò che preoccupa il magistrato però più della torre d'acciaio è il padiglione che all'Expo dovrebbe rappresentare l'Italia. Adesso c'è bisogno, così indica la stazione appaltante Expo, di semplificare. Di semplificare e di rifare un progetto, di riorganizzare un progetto che consenta di chiudere i lavori entro il primo maggio. Questo comporta la necessità di adottare una serie di atti e anche di soddisfare una serie di richieste di quei lavori fatti dall'imprenditore, il quale lamenta una difficoltà finanziaria per una serie di attività svolte ad oggi non autorizzate. Attività svolte e non autorizzate come è possibile? Sono state chieste una serie di varianti durante lo svolgimento dei lavori, non autorizzate in senso formale, non per questo illegale, ci mancherebbe altro. Sono stati chiesti una serie di lavori in corso sui quali va messo un po' d'ordine. E' ripartire in modo veloce per consentire che davvero il padiglione, che è il simbolo della nazione, si concluda entro i termini per l'inizio dell'Expo. Semplificare perché il rischio è che i tempi non vengano rispettati? Purtroppo sì, perché c'è una situazione complicata sui tempi, per cui i tecnici di Expo stanno facendo una serie di verifiche su come ricalibrare il progetto anche alla luce delle necessità dei tempi. Non dimentichiamo che il padiglione Italia ha anche avuto una serie di problemi collegati al fatto che la figura tecnica che in qualche modo se ne occupava, cioè l'ingegnere Acerbo, è uscito prima autosospendendosi e poi per i noti problemi giudiziari. Io posso dire che dagli atti che sono stati adottati dal 25 giugno ad oggi c'è stata un'attenzione maniacale, anche ai dettagli. Ma sugli appalti assegnati precedentemente al 25 giugno Cantone non esprime giudizi. Non ho motivo di credere che ci siano irregolarità, spiega. Ma se dalle inchieste ancora in corso dovessero emergere nuovi filoni di indagine, l'esposizione potrebbe fallire clamorosamente, perché dal giorno dell'apertura di Expo, il primo maggio del 2015, mancano solo 160 giorni.